Un intero nucleo familiare che risiede nel comune di Laterina, Pergine e Valdarno è in quarantena. È il primo tampone positivo per il coronavirus, il Covid-19 nel territorio aretino. Sì, è composto da una famiglia normalissima di giovani ragazzi con due bambini che abitano a Pergine e Valdarno. Abbiamo una coppia informata e questo deve anche farci riflettere perché è una coppia che non appena ha avuto un sintomo, una visaglia si è messa in auto isolamento e non appena ha avuto un piccolo problema, in questo caso un po' di febbre, ha subito chiamato il numero verde della regione toscana dell'ASL e ha eseguito il tampone che è risultato positivo. Il primo caso sospetto di Covid-19 nel territorio aretino in attesa di validazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. A risultare positiva al tampone è stata una donna di 42 anni residente a Pergine e Valdarno che sarebbe stata in contatto con la 32enne ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Ponte Anniccheri. Quest'ultima, nei giorni scorsi, era a Milano la 32enne clinicamente guarita. Da domani tornerà a casa in isolamento domiciliare. Le condizioni di salute della 42enne sono in miglioramento e i tamponi sono stati eseguiti anche per i familiari conviventi. La ragazza sta bene, oggi non ha neanche la febbre e questo ci deve dimostrare appunto che più che l'allarmismo deve valere un senso di responsabilità e anche una lucidità nell'affrontare le cose. Quindi non bisogna andare a cercare l'untore o fare una caccia alle streghe perché è una cosa che può capitare a tutti. È capitato in questo caso a una famiglia normalissima di ragazzi che lavorano e vivono nel mondo e quindi la nostra comunità credo che ne uscirà in modo molto forte, con senso di responsabilità, ne uscirà meglio di prima e sicuramente noi siamo al fianco dei cittadini per gestire questa emergenza. Insieme a tutta la task force regionale, devo dire che sono molto vicini alle istituzioni. Ovviamente non minimizzare il problema perché siamo in una fase di crisi, questa è una fase di crisi per tutti noi che ci troviamo ad affrontare un problema grande e che è un problema anche difficile perché poi tra l'altro è il primo, ma sono sicura che lo supereremo tutti insieme, che andrà bene e bisogna avere fiducia nel lavoro di tutti e soprattutto bisogna mantenere la calma. L'invito è questo, mantenere la calma senza minimizzare e anche coloro che vorranno speculare su questa situazione non ci faranno fare dietro il fronte, non ci faranno arrendere. Insomma noi continueremo ad andare avanti con la lucidità e con tutta la ragionevolezza del caso.